Questa è l'officina nella quale andiamo a realizzare campionature, prove, test di tutto il comparto di superfici realizzate in opera. E' qui che nascono le prime prove, che vengono preventivamente a volte partorite in termini progettuali qua, altre volte invece direttamente allo studio. Comunque è qui che andiamo a testare le miscele di superfici per andare a realizzare delle campionature che siano esattamente in linea con l'idea, con il progetto, con l'idea del nostro commettente. In questo caso, per esempio, stiamo andando a effettuare una decorazione con gocciolatura oro su queste belle schermature in resina arancio. In questo caso, questa decorazione si sostanzia con l'applicazione di una resina trasparente piuttosto densa, sulla quale poi vengono letteralmente gocciolate delle gocce di resina oro che viene poi stemperata attraverso la nebulizzazione di un altro catalizzatore, di un altro elemento che fa proprio da dissipatore e fa poi aprire il tutto in queste belle macchie. Ora, ogni tipo di superficie necessita di diversi passaggi per poter arrivare al risultato sperato. Il risultato finale di quello che stiamo vedendo, in fase di applicazione con Mario, è invece questo. Quindi questo sarà il risultato verso cui tendiamo il risultato da dover raggiungere. quindi vuol dire che quello che vedete alle mie spalle, che in questo momento è a metà dell'opera, diventerà esattamente così. My CliMax Instruction The Art of Seduction Grazie a tutti.